Chi è che si punta per primo? Sì, noi, tu ti tuffi per primo Vai Paolo Aspetta Ma con tutta la parrucca Tieni la parrucca Tieni la Qua se gli rimane incastrata tra le palle dei ricotti No Ragazzi No Eeeh Che immagine Tocca a me No ma se l'ha attaccata con l'attack quella parrucca Ma veramente Non si stacca Allora Mazzoli Bravo Ci sei? Vado E tocca a te Mazzoli, vuoi un biscottino? Ok Vuoi un biscottino? No, voglio dedicare Voglio dedicare questo lancio a Leone di Lernia Che ha fatto un'edizione storica nel 2006 Ok Leo, questo è per te Bravo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti